hello my nutellas bentornati al nuovo video benvenuti a tutti i nuovi iscritti oggi vi presenterò un trucco ispirato alla festa di indipendenza del mio paese berlin spero che il video vi piacerà se si mettete tanti tanti like e noi ci vediamo nel prossimo video vi metterò la lista di tutti i prodotti che abbiamo usato qui nell'info box e fatemi sapere se volete altri video di questo tipo iscriviti al canale 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 iscriviti al canale